Con il dottor Marcello Campione, coordinatore comunale della Lega Salvini Premier di Trapani, affrontiamo questa tematica che è quella che vede appunto una contrapposizione certamente politica di vedute sulla Sicilia e invece contrapposta da una alternativa che arriva proprio dalla Lega a livello nazionale. Parliamo della decisione della regione siciliana di mettere a disposizione le strutture alberghiere per gli immigrati che sbarcano appunto nel territorio italiano e siciliano in particolare. Contrattare la proposta della Lega che invece va in tutta altra direzione. Dottore Campione. La nostra proposta appunto va incontro, va verso i cittadini italiani, turisti che vogliono scegliere la Sicilia dando appunto un buono di 250 euro pro capite in maniera tale da poter scegliere la Sicilia. Invece al contrario, permettendo gli immigrati irregolari di raggiungere, di essere ospitati presso le nostre strutture possiamo capire che sarebbe un depauperamento impressionante per il nostro territorio perché oltre a far scomparire diciamo molto l'indotto determinato da ristorazione e balneazione, lidi balneari e quant'altro si tratterebbe anche di probabilmente aumentare la possibilità di contagio visto che come si è potuto vedere per esempio in Veneto che su 140 ospiti di una struttura erano positivi un altro a Pozzallo, adesso si parla addirittura di far sbarcare l'Alan Curdi qua a Trapani capite che queste persone giustamente che scappano da una situazione particolare sono destinati più che altro alla fuga e difficilmente rintracciabili sul territorio quindi non perdiamo questa occasione, non troviamoci impreparati alla riapertura partiamo verso la riapertura e uno slancio, un rilancio delle nostre strutture alberghiere e ricettive Al di là della proposta però voi avete intenzione di porre in essere azioni concrete per farvi ascoltare? Il Governo nazionale diciamo in questo momento difficilmente sta ascoltando le proposte della Lega visto che su 204 emendamenti soltanto uno è stato accettato non possiamo più di fare queste proposte, non possiamo naturalmente il nostro intervento non è contro, è a favore del turismo, a favore della Sicilia non nient'altro di nessun'altra avversione verso questi immigrati purtroppo questa situazione è presente, dobbiamo cercare di risolverla in altra maniera sicuramente non attrezzando le nostre strutture che già sono in grave sofferenza turistiche, alberghiere, ricettive e cercando di prepararle alla riapertura possibilmente nel periodo estivo